Grazie a tutti Grazie a tutti E' lui dal quinto piano E io andai in ospedale e gli dissi Ma come hai fatto? E lui mi disse ma io amo Cristiano Ronaldo E ho volato E poi gli dissi ma cosa vuoi? Vuoi una maglia di Cristiano Ronaldo? E' un'onda di ispirazione Vi ringrazio molto perché Veramente loro sono Ma sono fratelli? No non sono fratelli Loro vivevano nello stesso edificio Palazzo? Nello stesso palazzo Hanno avuto una tragedia ma hanno perso Certo Bene Se può servire Abbiamo una maglia Sì adesso arriva Adesso arriva tutto Solo che sono due Loro viaggiavano sul pullman davanti Quindi siete arrivati i primi E quanti anni hanno? Lui è nella seconda Svisce di Daniele Fiss Sette anni E lui è nella quinta Dieci anni Ok E l'incidente quando è successo? Nell'anno notte del 26 di novembre Non si sono fatti niente E' stato tremendo Abbiamo avuto 51 morti Sì sì Tutto terremoto no? Terremoto tremendo Oh sì 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 Gioca a pallo ma è un po' smartese Sì potrebbe essere eccoci qua no anche solo io anche Gigi il suo nome è Aurel mi piace filmare e un altro nome? Alessio grazie mille Cristiano perché non è solo per loro ma è molto importante per tutti i bambini e il paese che sei qui e che sei molto bene grazie no problemo hai un'importante gioco ieri sono molto vicino con Igli e mi ha detto che ieri sarà difficile quindi devi filmare ok ok ragazzi Perciò forse, per Cristiano, chiede lui, sì. Ciao Cuccioloni! Ciao Datti! Ciao ragazzi! Cristiano, grazie molto. Grazie. 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 Io sono un ventino di vecchia data, ma questo è un altro giorno. No, è vero, è vero. In Albania, sai che noi avevamo un cuoco a Coverciano, dove è il centro nazionale, dove il cuoco era albanese. E noi abbiamo un club della Juve in Albania, ma incredibile. Juve è una religione, no? Eh sì. Beh, tu sei il Papa. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, ciao, grazie, grazie. Amo? È una blusa di Cristiano solo, è proprio? Ti Spanish per me cigg OK? Non, 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 farò P Bufonina. 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 Dona Ruman. Moskutosa e Kamaru. Ti dokeshe da Dona Ruman. Di blusa. Ok. Doikim beni? Ajda. Grazie mille. Si si. Adesso domani avete una partita tosia. Igli dice che ma noi vinceremo comunque. Grazie mille. Grazie mille di venire all'Albania. Lui, il suo nome, ma la sua nonna è la Calabrese. Essendo Calabrese, lui ha radici albanesi. Erano albanesi a Brescia. Grazie mille. Ci vediamo poi una volta prima. A presto. A presto. Il muro giupato? Il muro giupato. Il muro giupato. Il muro giupato. Ok. Ok. Allora. Ok. Il muro giupato. Il muro giupato. Il muro giupato. Il muro giupato. Il muro giupato.